Manca ancora la neve ma arriverà e tutto sommato nel primo giorno di apertura degli impianti sciistici di Campo Imperatore il bilancio non è affatto negativo. Sono stati più di 200 i passaggi segnalati degli amanti della montagna nella funivia del Gran Sasso in una giornata decisamente gradevole anche dal punto di vista climatico. Un'apertura limitata con sole piste aperte, genziana e mirtillo rese perfette dagli operai che nei giorni scorsi si sono adoperati con i mezzi per renderle fruibili. La nota stonata come avevamo già detto qualche giorno fa è rappresentata dai servizi. Panorama mozzafiato a parte chiusi ancora il rifugio delle Fontari, bar e albergo dunque per chi scia ma non solo nessun servizio a disposizione. Nota positiva comunque la riapertura del rifugio di Monte Cristo con la nuova gestione degli imprenditori Ivan Guetti già proprietario dell'hotel Cristallo alla Villetta e ad ogni modo anche l'albergo a breve dovrebbe riaprire le sue porte. Fatto sta che nella giornata di ieri tutto questo è balzato agli occhi dei turisti che per la verità hanno avuto qualcosa da ridire anche sui prezzi. Due piste aperte e 26 euro di giornaliero.